Sono sei giovani che grazie alla loro creatività e intuizione hanno vinto il bando Giovani Idee d'Imprese. Un'iniziativa aggiunta alla seconda edizione che vuole promuovere la partecipazione attiva al mercato del lavoro favorendo l'occupabilità dei giovani. Finalità principale è quella di fornire ai giovani un'opportunità di valorizzazione delle loro idee, saperi e talenti. L'iniziativa è quella di promuovere un progetto per l'internazionalizzazione di un'impresa che ha l'obiettivo di esportare prodotti tipici italiani, sostanzialmente prodotti agroalimentari, in particolare olio, vino, conserve e prodotti da forno. L'idea è quella di sfruttare il contratto di rete, anziché partire da una soluzione di impresa singola oppure un consorzio, che sono realtà che esistono già sul territorio, fare un discorso diverso, perché oggi c'è un attimino una mancanza di fiducia verso queste tipologie di aggregazione. Ringrazio il Comune perché comunque in questo periodo qua dare dei contributi è importante. Dopo aver costituito questa società puntare ad altre società, le quali entreranno all'interno di questo contratto di rete e creare tutta una filiera che ci permette di portare il prodotto direttamente nei paesi, anzitutto paesi dell'Unione Europea. E poi mano a mano si spera, insomma, speriamo che la cosa vada avanti negli Stati Uniti. Dopo la pubblicazione delle graduatorie il 18 luglio scorso, per i sei vincitori, è prevista la prosecuzione per un anno del percorso di accompagnamento e tutoraggio alla realizzazione della propria idea, anche attraverso percorsi formativi ad hoc volti al rafforzamento di competenze comunicative.